Carissimi amici ed amiche, salve a tutti, ben ritrovati. Come fatto per il video precedente su Alice Neri, anche per il caso di Liliana Resinovic, ho avuto sollecitazione da una serie di nuovi iscritti al canale di offrire un riassunto, una sintesi del caso proprio perché si presenta abbastanza contorto, quindi abbastanza criptico, quindi leggendo quella si va più che altro in confusione e allora mi si chiede, dici tu abbastanza sinteticamente quali sono gli elementi essenziali di questo caso, ciò che può essere accaduto. Ovviamente parliamo di dati oggettivi, obiettivi e anche di valutazioni personali per quella che è la mia valutazione. Per cui questo caso, anche se ormai è datato, quindi ne stiamo parlando diciamo dal dicembre del 2021, però è ancora di attualità perché adesso ci sarà il 5 giugno un GIP chiamato a decidere se questo caso deve essere archiviato per suicidio anomalo oppure se bisognerà andare avanti con le indagini. Perché questo caso è così anomalo? Perché si tratta di una donna di Trieste, 63 anni, coniugata con Sebastiano Visintin, 73 anni, coppia senza figli che il 14 di dicembre del 2021 da mattina esce di casa e si perdono le tracce. Si perdono le tracce e il suo corpo che sarà trovato solo oltre tre settimane dopo, il 5 di gennaio, che sarà trovato poco distante in una zona che si chiama i giardini dell'ex OPP, sempre a Trieste. E qui si aprono degli scenari veramente criptici. Perché? Perché nel frattempo, dopo la scomparsa, ci si chiese come mai questa donna era scomparsa, che fine avesse potuto mai fare. E venne fuori pian piano un personaggio, un amico di nome Claudio Sterpin, che diceva quella mattina doveva venire da me perché io sono l'amante di questa signora e c'è di più. Noi eravamo sul punto di metterci insieme, di vivere insieme perché lei era innamorata di me, voleva venire con me, voleva stare con me perché noi ci eravamo conosciuti oltre 40 anni prima, avevamo avuto una storia giovanile, si dice, e quindi voleva venire da me. Ora, questo racconto, questa storia, è andata avanti ed è cresciuta sempre di più. però ciò che non tornava in questo racconto è che questa storia, diciamo, di amanti, che ovviamente non meraviglia nessuno se oggigiorno, però nessuno la conosceva, cioè tra i parenti, cioè il fratello, di Leana, la cugina, i nipoti, gli amici, nessuno mai aveva saputo dell'esistenza di questo signore né tantomeno della storia. Questo signore è una vecchia gloria del podismo di tanti anni fa, però veniva da raccontare questo. e questo racconto veniva accolto, diciamo, con credibilità subito dalla famiglia di origine di Leana, degli amici, che si coalizzano istantaneamente contro il marito Sebastiano Vicentino. io non vi voglio raccontare tutti i particolari, altrimenti qua facciamo un video di due ore, però questi amici, soprattutto i due vicini di casa, Salvo e Gabriella, insomma, praticamente si coalizzano avendo dei sospetti che il marito possa aver fatto qualcosa per far sparire, per uccidere questa moglie, perché magari lei voleva lasciarlo. Ora, di sconti a questa teoria non è stata trovata nulla, perché tra le altre cose il marito Sebastiano per quella mattina del 14 aveva un alibi perfetto perché era uscito, aveva fatto un giro di consegna di coltelli perché lui per addotontare la pensione minima affila, diciamo, i coltelli per ristoranti, pescherie, macellerie e quindi non è stato trovato nulla che riconducesse a lui e quindi c'è stato per mesi e mesi, diciamo per anni, questa diatriba fra la famiglia questo Claudio Serpino che in ogni occasione diceva la donna è stata uccisa e lui sa, il marito sa, e il marito che diceva ma quando mai che cosa si stanno a inventare? Anzi, anzi, aggettava ombre su questo Claudio Serpino. Perché? Perché questo Claudio Serpino aveva ricevuto lui l'ultima telefonata prima di uscire questa Liliana alle 8.22 di quel 14 di dicembre aveva telefonato a lui una telefonata di circa un minuto e cinquanta sembra che è stata sempre minimizzata perché all'inizio questo Serpino diceva no, mi ha detto passa alla wind è una roba di pochi secondi e io non ho detto una parola. Vi renderete conto che in un minuto e cinquanta secondi non può essere questo. Poi sottoposto a pressione mediatica lui a un certo punto dice no, ma io forse lo rimproverate perché non si faceva sentire da giorni e giorni e questo poi è stato scoperto da verifiche sui tabulati che non era vero che si sentivano. Quindi rimane questo punto interrogativo del contenuto vero di quella telefonata a mio avviso che non poteva essere faccio più tardi di passare la wind. Questo è un aspetto che non è stato mai chiarito e forse mai si chiarirà. Dopodiché un altro paradosso è che questo serpino dopo poco tempo comincia a tempestare dei messaggi danni un segnale qualsiasi esso sia poi cancella questi messaggi poi comincia ad agitarsi in una maniera paradossale per essere un ritardo di un uro un uro e mezzo di un'amica di quella che deve essere un'amica. dice mi dovevo fare l'alibi prendo la macchina e mi faccio vedere per Trieste avanti e indietro poi a Ziva sotto casa dice lui a Ziva sotto casa di Liliana però nulla fa nulla chiede nulla va a bussare non chiede a nessuno dice no mi sono affacciato ho visto se c'era la macchina di Sebastiano non si sa che titolo insomma come se lui facesse il parcheggiatore insomma ho visto se c'era la macchina ma per fare cosa comunque niente va viene insomma si agita sembra che vada poi o quel giorno o il giorno dopo o due giorni dopo vada addirittura dalla dalla cugina Silvia la cugina di Liliana questo paesino a Plavie vada lì per vedere se si fosse rifugiata lì e poi senza sapere nemmeno l'indirizzo di questa Silvia Radina cioè cose veramente inconcepibili poi il problema è che a un certo punto poi lui nel pomeriggio di quello quattordici si incontra chiama questo suo amico Salvo che è il vicino di casa di Liliana e chiamerebbe a lui e gli confide questa cosa che è sparita questa Liliana e quindi lo stesso Salvo gli dice ma tu domani mattina allora devi subito andare in questura a chiarire la tua posizione perché l'unico che aveva una posizione come dire di dubbio in questa vicenda già all'inizio è proprio lui perché lui era il destinatario dell'ultima telefonata e poi si è scoperto che lui aveva centinaia e centinaia e centinaia di telefonate da parte di Liliana tutte telefonate brevi un paradosso telefonate di pochi secondi che a mio avviso non erano affatti telefonate d'amore perché perché poi dei messaggi messaggi fra i due in pratica non ce n'erano perché in mesi e mesi e mesi si sono estrapolati sette otto tre quattro messaggi di fotografie cam cam cioè queste queste cose cioè nessun messaggio non è stato mai trovato né mostrato alcun messaggio come dire d'amore non equivoco così in cui si dica ti amo non vedo l'ora di venire da te queste cose qua nulla però però di contraltare ci stanno centinaia e centinaia di telefonate brevi quindi il dubbio che viene è che egli il giorno dopo il giorno 15 lo serpino sia andato in questura per per mettersi al sicuro per dire guardate tutto quello che voi troverete di telefonate eccetera eccetera è perché io sono l'amante e da questo momento ecco che a mio avviso l'indagine prende una direzione sbagliata cioè tutti i mass media tutte le televisioni tutti i gossip in generale si concentra su qualcosa sulla storia d'amore l'amante ma molto surreale questa storia una storia surreale perché a parte il fatto che stesso lui dice che per problemi di salute un paio di operazioni di tumore prostata eccetera che l'aveva resa completamente impotente per cui già questo è un paradosso ma si dice vabbè l'amore è anche ideale va benissimo questa cosa qui però non c'è prova di di nulla anche perché la vita che Liliana De Sinovic viveva con suo marito Silvaziano Vicentino era una vita che lei aveva scelto da 32 anni era una vita libera si è scoperto che loro erano una coppia libera avevano durante la settimana la libertà che ognuno faceva le sue cose le sue abitudini la sua vita poi prevalentemente nei fini settimana andavano in giro quando erano un po' più giovani per tutta Europa andavano in Grecia dappertutto e vivevano questa vita erano amanti delle sauna amanti delle spiagge naturiste delle spiagge nudiste avevano questo tipo di vita che per carità poi ognuno quando le cose sono le abitudini sono condivise non c'è nulla di male e quindi questo tipo di vita era in cui non mancava nulla a livello economico è un tipo di vita che forse inconsciamente potrebbero avere tutti visto che ognuno di noi si lamenta appunto delle difficoltà economiche poi magari i problemi con i figli parenti eccetera loro avevano invece questa vita così abbastanza invidiata a mio modo di vedere quindi pensare che ci potesse essere poi questo pseudo amante che aveva un atteggiamento un po' misogino verso le donne che diceva che la donna aveva il proprio ruolo doveva stare in casa a fare i servizi cucina lavare cucinare non aveva uno stile di vita nessuno l'ha mai visto in giro fare viaggi o che aveva un altro stile di vita vecchio stampo per cui era inconcepibile ciò che lui raccontava era anacronistico non poteva essere che una donna nella piena facoltà mentale e non completamente ammattita potesse mai dire no io mi distacco da mio marito con il quale sto benissimo e vado a fare un po' più della schiava a casa di questo personaggio quindi al di là dell'età al di là delle difficoltà fisiche ma proprio non ci stava a livello concettuale quindi non era credibile che come diceva come dice Rosserpine lui dopo due giorni sarebbe partito con lei a fare il weekend ad un mago dopodiché quando tornavano da questo weekend lei accompagnata dal fratello sarebbe andata a casa sua a prendere le cose le cose per andare a trasferirsi a casa sterpine è assurdo è assurdo tutto quello non non era credibile non è dimostrato né credibile eppure il gossip è andato appresso a questa a questa analizzazione diciamo così e quindi insomma la l'indagine è andata in un piccolo cieco perché stringi stringi gli inquirenti hanno detto beh il corpo è stato trovato il giorno 5 e allora non è stata trovata alcuna prova né contro il marito né contro altre persone e allora lei o diciamo avrà fatto una fuga solo lei si è andata a nascondere da qualche parte poi il giorno 5 si è andata a suicidare oppure chissà come il giorno 14 è andata direttamente a suicidarsi e poi non lo so qualcuno avrà nascosto il corpo oppure qualcuno le avrà fatto del male e avrà nascosto il corpo in qualche luogo freddo e poi l'avrà riportato lì insomma praticamente non sanno che cosa dire che pesci prendere quindi l'idea del suicidio la teoria del suicidio seppur anomala posticipata al giorno 5 è quella prevalente ed è la conclusione alla quale sono arrivati diciamo il PM di Trieste per dire guardate noi vogliamo ascriviare per suicidio che è avvenuto qualche giorno prima massimo un paio di giorni prima e lì ai giardini dell'ex OPP perché era incompatibile la situazione di come è stato trovato il corpo in buone condizioni di conservazione che la donna stesse lì suicidata a terra diciamo in quelle condizioni non poteva essere che stava dal 14 di dicembre poi in quale condizione è stato ritrovato il corpo è stato ritrovato in due sacchetti neri della spazzatura e quindi io vi tralascio qui tutte le dichiarazioni nelle cose però come è stato ritrovato è certamente strano perché una persona che va a suicidarsi di solito sceglie altre modalità ma quant'anche fosse di soffocarsi con dei sacchetti poi non è che prima di soffocarsi con i sacchetti si mette dentro i sacchi della spazzatura sembra veramente un delirio psicotico questo ora quindi c'è la proposta di aschiviazione per suicidio anomalo la famiglia insomma tutti quanti fanno ricorso e dire no non vogliamo che sia aschiviato perché secondo noi è stato ucciso sicuramente sarà stato ucciso perché poi tra tante di queste anomalie il corpo viene trovato ad esempio con tante formiche mostre stecchite addosso quindi non vive quindi è chiaro segnale che il corpo è stato portato da un altrove lì perché altrimenti le formiche sul corpo sarebbero state vive ed in movimento basterebbe solo quello però tutti quanti fanno un ricorso per dire la perizia utoplica non è stata fatta bene vediamo analizziamo altre cose vediamo qua vediamo là però in sostanza nessuno dice cose nuove perché quando la palla ritorna pure ritornasse pure ai PM i PM cosa fanno magari facciamo un'integrazione alle perizie al giubbino agli altri elementi non analizzati bene non uscirà fuori niente di di che impronte DNA non ce n'è cosa cosa significa significa che si va ad escriviare per suicidio anomala la teoria che io ho sostenuto avendo seguito questo caso passo passo dal primo momento è che in realtà in realtà tutto ciò che è legato a questa presunta storia d'amore che non esiste era un paravento per nascondere la verità cioè la verità secondo me è legata al fatto invece di una problematica legata a soldi al denaro a qualche cosa di poco chiaro in cui probabilmente era invischiata Liliana Resinovic in perfetta buona fede per carità era una donna eccezionale però vedete anche a causa del periodo covid può essere che lei sia stata indotta a fare certe cose all'inizio magari a cuore leggero poi si è trovata implicata in situazioni un po' più assurde e per mantenere non solo uno stile di vita farsi mancare nulla delle spese varie ma per continuare ad aiutare la propria famiglia il fratello la nipote gli amici aveva secondo me fatto una scelta di fare un qualcosa di non troppo chiaro cioè di avere a che fare a mio avviso con persone non troppo chiare non troppo diciamo per bene diciamolo così e di questi io credo che dato che era un comportamento non del primo giorno perché lei quel 14 esce in maniera anonima senza nulla non senza fede senza anelli senza orologi cioè con l'orologio scusate l'unica cosa che ha portato senza documenti senza casti di credito senza soldi senza senza telefono perché andava incontro ad una persona che non doveva riconoscerla quindi aveva con sé solo questa borsa che sembra piena pure dalle immagini e quindi credo che fosse legata a qualcosa del genere e questo qualcosa del genere io non credo che fosse del tutto sconosciuto a tutti credo che il fatto che lei avesse molta disponibilità di denaro liquido e che sui suoi conti bancari non ci fossero movimenti sostanziosi quindi lei aveva tutti i soldi della liquidazione così tutto bello sulla banca quindi tutta questa liquidazione che dava a destra e a manca soprattutto in famiglia non era tracciabile era il denaro liquido che poco si giustifica dalla sua pensione e quindi e quindi io credo che gli altri che stavano attorno pure i fratelli si saranno fatti delle domande come mai lei poteva aiutare così a cuore leggero e credo che lo Serpino sapesse dove andava quella mattina il contenuto di quella telefonata forse non ce l'ha dire mai ma potrebbe dirlo visto che ormai nessuno gli crede più potrebbe togliersi quest'ultima soddisfazione di dire ve lo dico io allora la verità qual è perché credo che lui tutta quella preoccupazione eccetera sia giustificata dal fatto che lui sapesse qualcosa in più sapesse dove stava andando Liliana sapesse se Liliana aveva qualche cosa di poco chiaro e la stessa cosa vale per il marito che diciamo è diciamo ve lo dite il più furbo di tutti il più lucido di tutti nonostante reciti un po' la parte del finto tonto di quello là che non capisce bene invece capisce più di tutti messi insieme perché perché lui pur essendo completamente strano credo a qualsiasi cosa nei confronti della moglie per carità perché lui ne aveva solo benefici della moglie figuratevi non avrebbe mai potuto fare niente però lui non poteva non sapere non non avrebbe intuito insomma se la moglie magari nelle sue uscite aveva qualche giro qualcosa di poco poco chiaro e però giustamente lui dice non so non mettevo mai le mani non vedono non sentono tutte tutte cose belle ci amavamo i topolini le cose baci carezzi abbracci e andava tutto bene deve dire così ed è giusto che dica così tanto è vero che alla fine in questa faida ecco familiare chiamiamola così ha vinto lui perché alla fine adesso se il caso si chiude così lui ne trae tutti i benefici economici giustamente con tutti i soldi che ci hanno sui conti perché legittimamente è così anche addirittura della pensione di reversibilità ed è giusto che sia così e quindi forse Sebastiano in cuor suo dice speriamo che finisca tutto presto perché alla fine dei conti ormai le cose sono andate in questo modo e lui ne avrebbe tutti i benefici quindi questo è qualcosa che è capitato lo stesso fatto che il corpo sia stato ritrovato in due sacchi neri della spazzatura è diciamo un chiaro segnale di queste persone che ad un certo punto forse l'hanno sequestrata hanno cercato di contattare hanno cercato di prendere soldi chissà cosa a un certo punto poi l'hanno restituito il corpo non so se ci sono stati contatti in tal senso può essere hanno restituito il corpo però l'hanno restituito nei sacchi della spazzatura perché per dire questo è il nostro segnale per chi deve capire anche perché evidentemente queste persone si sono resi conto che il caso stava acquistando una un aspetto mediatico notevole nazionale in cui si parlava l'amante 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 allora per dire guardate non c'entra niente l'amante l'amante c'entra il fatto che che se noi la restituiamo nei sacchi della spazzatura è diciamo una sorta di resa dei conti diciamola così questo è il mio parere ovviamente non è che posso dimostrare però io che ho seguito passo passo ogni giorno questa storia è l'unica conclusione possibile a mio avviso perché Serpin diciamo si difende inventando la storia d'amore perché era l'unico che aveva contatti quotidiani di queste telefonate queste cose qua e sapeva il mio modo di vedere sapeva qualcosa gli altri potevano sapere o sospettare come pure il marito poteva sapere o sospettare però poi ognuno c'è un vingolo quasi di solidarietà indiretta tra di loro perché se insomma si scopertia tutta questa situazione magari il danno è un po' per tutti allora conviene essere zitti tutti se si aveva anche un'idea un sospetto qualcosa però ripeto io credo che se andrà avanti per la schiviazione finirà così a meno che credo proprio l'Osterpin alla fine possa decidersi di dire ecco la verità su quella telefonata e su ciò che lui sa esattamente anche se dicendo questo si espone forse come dire a dei problemi personali dei pericoli non lo so però ne creerà pure ad altri quindi a volte vedete una persona che è sconfitta dice vabbè io esco malconcio da questo però adesso vi dico la verità potrebbe anche succedere questo quindi ho cercato di riassumere in breve la situazione di stallo che adesso si è venuta a creare c'è ancora chi parla l'amante l'amante quello voleva andare dall'amante cose che non esiste e quindi così lentamente ci si avvia all'oblio alla dimenticanza è un modo anche questo per a volte risolvere le questioni nell'oblio quindi spero di essere stato giato insomma spero di di essere spiegato bene seppur sinteticamente perché la sintesi è un dono quindi in poco meno di mezz'ora vi ho detto sinteticamente proprio al nocciolo i fatti e vediamo se ci sono novità se casomai emergessero le novità che possano portare il GIP ad una diversa determinazione ad una diversa conclusione grazie amici miei un abbraccio e grazie sempre dell'affetto con il quale mi seguite ciao a tutti grazie grazie grazie